Sono tre gli arresti in una sola settimana nella zona che va tra Campo di Marte e il parco del Pionta, zone assolutamente sorvegliate in maniera molto più stretta dalle forze dell'ordine, tant'è che proprio durante il nostro sopralluogo è passata una pattuglia della polizia. In questo caso gli arresti però sono stati siglati dai carabinieri. A Campo di Marte è stato arrestato per detenzione a fine dispaccio un ventenne della nuova Guinea richiedente asilo, trovato in possesso di 20 grammi di ascice e 19 di marijuana. In un altro controllo proprio nella zona del Pionta i militari hanno perquisito un 19enne del Gambia domiciliato a Sansepolcro, anche gli richiedente asilo, trovato in possesso di 15 grammi di ascice e 17 di marijuana. Anche per lui sono scattanti le manette. Gli altri arresti risalivano alla fine di dicembre, la droga era stata nascosta in questo caso nella porta del campetto da calcio che è qui alla mia destra e effettivamente gli aretini che frequentano il parco del Pionta hanno ancora paura. Non è che si frequenta a cuor leggero, ci si viene specialmente con le giornate come oggi perché è bellissimo e poi con i cagni è l'ideale, le macchine non ci passano e tutto, ma la paura è abbastanza. Forse dell'ordine le vedete passate? Sì, 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 penso che, oddio, tutti i mattoni di queste case l'hanno passato, effettivamente c'è stata una presenza eccezionale, però questi continuano a venire, ora ci siete voi, hanno paura di essere ripresi e non c'è più nessuno. Più sicuro? No, io ho paura per andarci lì, preferisco, faccio così un giro, invece di fare in Pionta un giro. No, non è sicuro. Infatti l'ho vista un po' di corsa. Sì, ho paura.